Nella dittatura, più marcia al mondo, guidata dal suo presidente, Emilio. Pensavo che non ci saremmo più tornati qui. E io pensavo che non ti piacesse la lasagna. La nostra casa, il nostro dovere. Osvaldo, un grande pittore. Siamo dei gangster che si ribellano al potente. Noi tutti siamo schiavi. E io che ti devo dire. Dammi una mano per formarlo. Non potrà essere così semplice. Monella! Dobbiamo combattere. E sto cazzo. Monella! 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 Grazie.